questa nuova l'episodio dell'ainzand dio città ci panni tutto non è ancora finita perché qua faccio vedere che qua è possibile scoprire che c'è livello seguito dai lasciamo stare le casse io vi ringrazio a tutti voi voi aver seguito tutta la serie let's play dell'ainzand dio città adesso presto inizia una nuova serie qua la di a proposito comunque vabbè so che c'è la che dovete accedere qui comunque che penso che stasera farò riprendere con le live di Xenoverse perché proprio perché dato che ieri c'era proprio il primo anniversario primo anniversario di etipalea c'è pure negli ultimi episodi livello comunque che livello segreto comunque che arriveremo a scoprire si tratta proprio di se magari continui se non continua a schiattare come un pilla e vaffanculo di nuovo ma che è non ci posso credere se le figuracce le faccio pure intanto devo tento di scoprire qualche livello se probabilmente potrebbe essere anche l'ultimo livello segreto ma non so se ne sono due livelli segreti o che uno che uno era uno è del dipustodex che lo scopriremo adesso eh se magari se ne ho schiatto e l'altro dovrebbe essere quella con la moto che vi abbiamo fatto vedere quella se non mi sbaglio 8 coco che due sono i livelli segreti uno è 8 coco ok questi qua li lascio stare tanto meno male che non sono schiattato ok checkpoint nel caso se schiatto dovete farmi prendere dal secondo terodat le per la scelta a livello che non da questo ma da quell'altro ma stavo cercando di farmi prendere no c'è assurdo ok ok ovviamente ho ottenuto il trofeo questo è un'infinite oltre citazione di Buzz Lightyear ok io credo che dovrei anche fare prima la relic qua poi la gemma dai andiamo intanto sto livello segreto potrebbe anche sembrare facile però non è per niente ecco ho già presso bebi il t-rex che dovrebbe chiamarsi così atto non c'è bisogno della supercorsa eh dai aspettiamo qua c'è che è ma por ok dai ce la passiamo ok gemma messi cazzi e ti pareva che non ho ecco ma dovrei fare da cavo poi persco ok livello segreto regghi plus regghi ho ottenuto un altro trofeo da ricendo o due recendo ok manca solo la regghi credo che potrei anche fare qualche taglio ce ne ho qua sclero sclererei troppo a tentativo di di riuscire a livello segreto e di busto del x15 quindi ci becchiamo quando dopo che ho dopo che ho effettuato di nuovo l'accesso a livello segreto un dia dopo e di riuscire a livello segreto e di riuscire a livello segreto e di riuscire a livello segreto e di riuscire a livello segreto